Tornati sul canale del Blades, siamo qui con Alex Iuliana che ha fatto top 32, dove? Al Nazionale 2019 di Bologna. Cosa ci ha portato? Mi portavo Salaman Great. Vediamo un po' la lista. Mostri, tre gazzelle, tre volpine, due spinni, un jack, un palco e un favore. Ok. Prenzo abbastanza standard, giusto? Sì, esatto. E' una Lady Libre. Ah, ok. Poi come entra? Piocavo tre Fantasmei, tre Realer, tre Ash e un Ogre. Ah, la sagra delle HT? Esatto, una decina. Che dici il motivo dell'Ogre? Come mai Monogre? Perché mentre scrivevo la lista mi sono reso conto di avere 39 carte nel mazzo. Ah, è la prima carta che ho trovato nell'album. Ah, perfetto. Quanto ti ha aiutato quella Monogre? Mi ha tolto un ruolo in un game che forse avrei perso. Ah, ok. Almeno è stata utile. Magie. Tre circoli, un santuario che non ho quasi mai visto in mano per fortuna. Due Will. Ah, due? Sì. Di tanti, di solito tutti a uno la stanno giocando. Sì. È molto, molto forte. Un Twin e due Cyclone. Ah, come? Questa è strana come tu usi. Perché originariamente giocavo tre Twin, solo che mi sono reso conto che ho davvero troppe carte che scartano carte in mano. Ah, ok. Non sembrano la possibilità, quindi ho optato per due di queste. Perfetto. Due Sinic Mining. Ok. Penso standard. Sì. E due Collette. Ah. Anche questa è abbastanza standard. Trappole, tre Impermanence. Ah, continuiamo con le HT? Bene. Fanno 13 in tutto e Rage e Run. Vabbè, standard. Standard, sì. Andiamo a vedere l'extra. Di extra c'è Boralos. Fatto una volta, penso. Poi standard. Doppio, sì. Due Tlio, tre Lupi e tre Linci. Sì. Di nuovo. Una Fenice e due Ita. Ok. Due Ita perché, testando, mi capitava spesso di dover fare la seconda, ma mai fatto. Ah, ok, ok. Oggi. E anche ieri. Vabbè. Forte. Unico Run 4, fortissimo. Staglio con la combo. E questa perché di side gioco Fusual of Fire. Non hai giocato il Tornado Dragon, come mai? Perché non ne sentivo il bisogno. Ah, ok. Unico Run 4, fortissimo. Esatto. Ok. Andiamo a vedere la side. Siamo la side, due pancratopo. Nanosecondo contro mazzi vari. Ok. Tre Lancea. Vabbè, questo è Orpheus, Thunder, Company. È Thunder, esatto. La side partina. 3 DB Cross per il Mirror Match, fondamentalmente. Sì. Una Fusion of Fire, sempre per il Mirror Match. Un Nanosecondo contro mazzi contro questa forte. Due Twin. Non ti sentivi sicuro dei due Cosmic, più Twin, e hai detto aggiungiamoci altra roba per il Back Club. Esatto. Ok. E mi sono serviti, devo dire. Contro Mirror Control, Contro Sky. Quindi due Twin, Imperial Order. Parlo da sé. Ah, ok. Altra roba per... Per togliere cose andando secondo, sì. Beh. Cambiaresti qualcosa nella lista o... No, penso che vada abbastanza bene. Forse toglierei la monovra che non c'entra. Ah, ok, ok. Mettere monobuffer. Monobuffer, forse, sì. Ah, ok. Qualche ringraziamento? Sì, ringrazio innanzitutto il mio coccanente Miro, che mi ha aiutato con la lista spiegandomi un po' il meta, visto che erano due mesi in più che non trucavo carri. Ah, ok. Dammo, che anche lui ha dato mano con la lista. E tutti i miei amici. Annunciamo l'ingresso del ragazzo, giustamente nel Never Stop Blazing Team, perché si vergogna a dirlo, se no si evoluziona. Voleva la proposta ufficiale con l'anello, però, insomma... E chiedere troppo, sempre. Ok. Il canale al di cipone. Ancora grazie a tutti e alla prossima sul canale del Blazing. Grazie.